Anche oggi se muoio finisce il video, ma questa volta se muoio, eh, finisce il video istantaneamente a differenza della scorsa volta E pensate un po' donisiani, quest'oggi faremo le cose ancora più difficili, infatti morirò sicuramente Sono masochista, sì, e voglio trovare solo armi bianche, cioè vi rendete conto? Cioè io già non so giocare a Fortnite, in più trovo anche le armi bianche perfetto, no? Cioè, ok, sono giunto su questo tetto e ora lo spacco come potete vedere, mamma mia che youtuber che sono Allora, dunque, prendiamo queste cose, ma io ho veramente scioccato da me stesso Che io non so veramente, sinceramente, se sono normale oppure no, spesso no direi Spesso non sono normale, spesso sembro veramente una persona pazza Che vuole cercare di, boh, non so, di picchiare qualcuno, non lo so Ma vi giuro, io non ho questi istinti Solo a volte, eh, no, 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 stai scherzando Già, dai, già che faccio, non ho armi Dai, deve finire il video, allora Per favore, te ne puoi andare, grazie Cioè io vorrei solamente vivere da solo Vabbè, diciamo che all'inizio può valere, no? Cioè, ovviamente, no? Può valere, no? Cioè all'inizio, dai, su, nel senso Non avevo niente, ecco, per esempio, sto tizio Aveva un'arma bianca, altrimenti non mi salvavo e finiva il video Cioè, nel senso, durava tre secondi Non c'è, non potevo farlo durare tre secondi, i dunisiani Anche voi, cioè, veramente scioccato da quello che pensate Allora, però, dunisiani, ditemi se ho fatto bene in questa cosa Se potevo farlo oppure no Cosa sta facendo sto qua? Ma è stupido Cioè, proprio stupido forte Ma proprio stupido, stupido, stupido Vabbè, insomma, ho le bombe, ho le cose Posso usarle, no? Eh, chi c'è qua? C'è il signor No Eh No, per favore Ah, ma pensa te Ok, silenzio, eh Io qua adesso ce la posso fare Via, via per sempre, via per sempre No Non cercherò guai I don't want troubles Ah, eh Non so cosa Eh No Allora, sto un po' facendo a caso Ma, vabbè Porca miseria Cosa sto facendo? No, 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 raga No Ma porca miseria Allora, ditelo anche voi Ditelo anche voi I giocatori di Fortnite vi stanno antipatici, vero? Perché non è possibile Voi, quando, quando entrate a giocare C'è sempre quello che vi viene ad ammazzare Almeno che non siete Pro Però io non sono pro Eh Non lo so, c'è veramente Odio Odio più totale Ma cosa mi viene ad ammazzare? Brutto Tu Io ti odio Ti odio Perché mi viene ad ammazzare sempre E pure tu Là in fondo Sì Pure tu mi viene ad ammazzare Guardalo che salta In segno di disprezzo Pure tu Ah Io ora vado a corso commercio Perché così è lontano E non mi ammazza nessuno Si spera Si spera E da ora vale questo Questa cosa, no? Del Di quello che ho detto prima Cioè che se muoio Finisce tutto il video Bene Istantaneamente Quindi se siete già arrivati Fino a questo punto del video Scrivete nei commenti Ehm Non lo so Scrivete nei commenti Evidenziatore giallo Ok Evidenziatore giallo Così io posso Capito Posso darvi il cuoricino Vi do il cuoricino Se scrivete Evidenziatore giallo E consigliatemi anche Qualche modalità di Fortnite Da fare Grazie E ci sentiamo Ok Sono su questo tetto Ora però Non posso prendere Questa cosa verde Perché ovviamente Non la posso prendere È verde Che schifo Il verde A noi A noi piace Il bianco Capito? Cioè Non è che A parte ovviamente Anche il medikit È verde Però No dai Per favore Mi sa che in questo video Dunisiani non completeremo niente Io ve lo dico Eh Ho trovato questo Potrei essere Fortun Talmente tanto fortunato Da dire Oh caspita Posso farcela Eh sì Come no Ah beh Forse sì Direi assolutamente di sì Ce l'ho fatta Attenzione Attenzione Dunisiani Dunisiani State attenti Che qua Non si scherza No però è stupido Sto qua Scusami Allora Non voglio Non voglio Morire Grazie Quindi Te ne puoi andare Grazie Ne sarei Eh No perché 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 faccio sempre questo Perché faccio sempre questo Perché Perché io lancio i medikit Al posto di Cos'è successo? Cioè io lancio i medikit No dunisiani Voi vedete No io lancio i medikit Le bende Al posto di Di lanciare Di sparare Non è possibile Non sono normale Cioè Ti pare Che uno Durante un combattimento Cos'è che fa No? Cioè Va Invece di sparare Cosa fa Lancia il medikit Addosso all'altra persona Ma ti sembra il caso? Cioè io veramente Non so Cosa dire Da me stesso Tranne che Sono un bravissimo Giocatore di fortnite Non è vero Mai nella vita Ecco Questo era pure bello Invece non lo posso avere Ah Ah Pensa a te Adesso andiamo qua E prendiamo il tesoro Il mio tesoro Il mio tesoro Mh Le scildini Molto buoni Cioè scildone Vorevo dire Adesso vi sento Vi sento io da casa Non è una scildina È una scildone Lo so eh Lo so Mi ero solo confuso Un attimo No Non è che faccio schifo Su Fortnite No 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 Io non è che faccio Ecco appunto Che caspita è Scusa Te ne vuoi andare Ma cosa vuoi Ma Adesso ti ammazzo Ma ti Ti spacco Ma chi Ma poi a chi sta sparando Scusami Ma io sono scioccato Veramente Allora Vediamo Potrebbe finire qua il video Praticamente Io ve lo dico Potrebbe finire qua Ah No niente 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 Non è possibile Non è fattibile Non è una cosa fattibile Ok Come non detto Era Un pochino Più in abbetto di me Almeno ci sono giocatori Più in abbetto di me Non è vero Non è vero mai nella vita Non è vero Cioè proprio Io faccio Più schifo È tutta fortuna questa qua Io lo so Cioè io lo so Che ora Arriva qualcuno Che mi ammazza Eccoci Senti L'ho detto L'ho detto L'ho detto No 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 Però adesso c'è Perché sta laggando Che cosa è successo Lo vedevo strano Tutto scemo Ma io veramente fortuna Non osare laggare Perché se no ti Ti sculaccio Sculacciamo fortuna Eh se lagga Scherzo eh Allora io Vorrei evitare di infischiare Eh Cos'è che ho detto Di infilarmi nella mischia Però c'è uno C'è uno C'è uno là Che sta costruendo Un ponticello Cosa fai Non vai addosso Adesso questo Mi ammazza Ragazzi Io lo so Perché faccio Ste cose Perché le faccio Poi mi pentisco No Cioè mi Non so più Nemmeno parlare In itali In itali No scusami Qua Non proprio no Non so parlare In italiano Guardatelo là Un pochino Un abbetto Se posso dirlo Pure lui Un pochino Un abbetto Devo dire Pure lui Ma è meno male Almeno so quello Che faccio Anche se Anche se In realtà Non so se c'è qualcun altro Oppure no Io sto solamente Prendendo queste cose Una mitraglietta Vai La mitraglietta è buona Non prendo Cioè ho solo armi bianche Come potete ben vedere Quindi non sto barando Nel primo round Sia barato Che son morto Che schifo Boh Puzzo Invece adesso Guardate quanto sono Bello e bravo Simpatico Gentile Anche se gli altri Praticamente si stanno Ammazzando Infatti io Direi di andarmene da qua Oppure direi di spiare Ci starebbe spiare Vero Perché boh Cioè voglio spiare Voglio vedere la gente Che caspita sta facendo Perché sta combattendo Contro chi poi Fra l'altro Ah Se stanno ammazzando Da soli Vedo Eh 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 Ma scusa Ma quello è un bot Non ho capito Ma è stupido Ma che caspita sta facendo Ma è un Per forza è un bot Eh beh però pure io Certo mamma mia A terra Predone Lince Ma cos'è sta roba Eh ma Muori Grazie Eh eh Sono scioccato eh Sono scioccato Ma poi contro chi Stava combattendo Ma io Io veramente Eh scusa Ah ma questi sono i tizi Ma chi Ma chi 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 vi si Eh Chi Cioè chi vi si Io non posso dire Quello che voglio dire Però Cosa ho appena detto Cioè voglio dire Tante cose Però non posso dirle Perché stanno su youtube Ok Cioè perché Fornite ha aggiunto Ste cose Me lo spiegate Era molto meglio Prima No non è vero Scherzo Cioè Apprezzo molto Che aggiungono cose In realtà Io lo apprezzo davvero tanto Grazie Fortnite Molto bene Ora andiamo da questa Da questa parte Ho visto qualcuno là O sbaglio Potrebbe darsi che sbaglio Ah No non stavo sbagliando Vero Non stavo sbagliando Io non so Sto vedendo Sto sentendo gente Può darsi che sia solamente Pazzia Cioè può essere che io Stia impazzendo Sì questo Può essere Io vi sento eh Comunque Grazie 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 degli insulti Che mi tirate Veramente Gentilissimi Io lo apprezzo davvero tanto Se volete potete scrivermi anche Gli insulti nei commenti Tanto io non mi offendo mai Cioè io Pensate I miei amici a volte Mi chiamano tipo Mi tirano le peggio cose Io non mi offendo mai Ma perché c'è Io non mi offendo Io Boh Non lo so Sono strano evidentemente Non so Oh caspita Ecco potete anche Tirarmi un insulto Ora Per il microfono Perché mi sentirei meglio Perché ho appena Sbombardato il microfono Eh Pensate voi Allora Ehm Bah Qua io non è che sto vedendo Tanto comunque Cioè Non vorrei dire ma Non è che ci sia Chissà quanto Anche se Io vi ricordo Che ci potrebbe Sempre essere Il nemico dietro Che ti si infila Sempre da dietro No Una cosa terribile Ed è veramente Cioè Bisogna stare spalle al muro Qua perché veramente Cioè Potrebbe esserci dietro Qualcuno che ti infila Il proiettile Nel sedere però Eh Eh Quello fa male Fa tanto male Ma in realtà Dappertutto il proiettile Fa male secondo me Dappertutto Cioè anche se ti Trafigge una spalla Fa male il proiettile Ma cosa stavate pensando Ma Io guarda Ma Io veramente Ma che community pervertita ho Ma scusate No vabbè Scherzo Scherzo Dai su Allora Andiamo da questa parte Da questa parte E cerchiamo un tizio Da ammazzare Perché sinceramente Io Cioè nel senso La Diciamo la sfida Però non è che posso Camperare tutto il tempo Cioè la sfida È di restare vivo Il più possibile No Per far durare di più il video Però se io Non Capito Se io Non vado ad uccidere qualcuno La sfida non vale Però direi che Finora ho ucciso un po' di gente Anche se erano Un pochino Nabetti E Ma vabbè Questo può essere Come può non essere Cioè nel senso Magari In realtà Facevano finta Erano Persone super famose Tipo era Era Non lo so Una Uno youtuber famoso Di fortnite Che io conosco Ehm Vabbè No allora Non voglio fare Nome di youtuber Perché poi dopo Ti prendi il merito No I'm a savage Ok Che ho appena detto Che sono un selvaggio Non so perché Ma vabbè Oh grazie del legno Sei molto gentile Ora io sono nella safe Ok Siamo tutti nella safe Ora cos'è che possiamo fare Qua dalla safe Praticamente Possiamo aspettare Che la gente Venga ad ucciderci Oppure Se troviamo gente Possiamo Eh possiamo andare noi Ad ucciderli Se riusciamo Guarda L'hanno già costruito qualcosa Io mi sto cagando sotto Vi devo dire la verità Poi boh Cioè Nel senso Potrebbe essere Come potrebbe non essere Che io adesso muoio Anche perché sto per andare Proprio là Avete capito Proprio bene Sto per andare là E io qua Ehm Non è che me la sento di stare Eh Allora qua è abbastanza In alto Eh Chi c'è là Allora io non è che vorrei Cioè dovrei farmi Gaffari miei Me ne rendo conto 22 Ah 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 Uh 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 Eh 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 Cosa vorresti fare Signor Sottutto io Non so cosa sto dicendo Mi sa che adesso muoio Raga Forse dovevo starmene Per le mie Potrebbe darsi eh Potrebbe darsi anche Questo fatto qua Certo che però È un po' stupido È certo che la mia mira È talmente Eh No porca miseria Perché sto facendo sta cosa Ah Grazie mille Grazie mille Sì Oh 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 Beh Brutto Schifo Ve l'ho detto Io volevo fare Lo schifoso Poi avete notato Cos'è che c'è qua C'è un pompa Viola Ora Io non vorrei dire Però il pompa viola È molto buono E io non posso prenderlo Mi spiace Eh perché Perché ho scelto io Di fare sta sfida Non lo so Cioè poi quando io faccio le sfide Mi trovo Noi pompa viola No Invece Quando io sto da solo Ok Quando invece gioco da solo Non mi prendo mai niente Zero Zero Ma io Io veramente Secondo me c'è fortnite Che mi odia Cioè io ve l'ho detto A volte C'ho questa impressione qua O c'è Non lo so C'è il destino Che mi odia Non lo so Però insomma Qualcuno che mi odia C'è sicuro eh Cioè nel senso Non è possibile altrimenti Però no dai Allora guardiamo il lato positivo Sono sopravvissuto dopo tutto no Sono sopravvissuto ad un tizio Che aveva un pompa viola È tanta roba eh E io posso pure volare Non so se vi rendete conto No un attimo Perché ho fatto sta cosa Scusate Perché l'ho fatto Non dovevo farlo Io non so più come atterrare No Non so più come atterrare No raga Com'è che si atterra No 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 Ma che sei scemo Vabbè Facciamo scendere così va Ok scendiamo da questo elicottero Non ci stiamo mai più Mi raccomando Io non so Non so Non so assolutamente Chi è che c'era Chi è che ha sparato Eh Da questa parte Non ho capito Ma vabbè Ah Mannaggia Gian Giuberto Questo Gian Giuberto Quanto lo detesto Io a volte Allora forza Stiamo Stiamo calmissimi Stiamo tranquillissimi Perché adesso Ah perché l'ho fatto Non so cosa sto facendo Raga Cioè mi sto sentendo Una specie di pro game No adesso muoio Ma chi è che mi sta sparando Ma porco Porco spino Mi sto cagando sotto Anche perché siamo rimasti in set E siamo tutti qua Allora in teoria Io da qua Avevo visto qualcuno che mi sparava Ora non vorrei dire Però ho paura Che sto tizio Mi uccida di nuovo Che che c'è lassù Ho visto qualcuno Per caso Ma Certamente non so Però io adesso direi Di starmene per le mie Ok Di far combattere loro E dopodiché ucciderli E vincere Sostanzialmente Questa è la mia strategia È bellissima Come strategia Vero Fare il camperone Quanto mi sento Una schife In questo momento Chi sei Chi sei Non ti voglio Vai via Eh puzzi Puzzi di schifo Puzzi di scurregge Vai via Oh c'è stupido cretino Mettiti sta benda Guardalo Guardalo come si benda Il braccio Ma benda Ti Non mi far dire Perché Se dico Dico brutte cose Sto qua è un pro Di schifo Ok è un pro E io non so giocare Così bene Eh però ci proviamo Comunque Però scusami Dove è finito Eh chi è Chi è brutto schifo No Stai scherzando Stai scherzando Stai scherzando Stai scherzando Ah ma è da là Scusate È da là È da là Mi sa È da là Perfetto Oh Hai rotto le scatole Proprio Fatelo dire Ok 31 Mannaggia Gian Giubere Ok attenzione Che questo qua Sa buildare Però in realtà Mi sa che è un po' stupido Perché Nel senso Mi basta fare questo E gli distruggo tutto Ma non è che vorrei dire Però No no Mi ha lasciato con due